L'avvertimento arriva dal rapporto sull'economia italiana dell'Ocse, per ora è impossibile ridurre le tasse. Il documento presentato oggi al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro rivede al ribasso le stime sul prodotto interno lordo per il 2013, meno 1,5%, ma prospetta la possibilità di un'uscita dalla recessione nel corso dell'anno. Per l'organizzazione le riforme messe in atto sono positive, ma richiederanno tempo per materializzarsi a causa del clima di scarsa fiducia, del ritmo lento della ripresa negli altri paesi e della necessità di proseguire sulla strada del consolidamento fiscale. Il ritorno alla crescita non è previsto prima del 2014, per cui l'Ocse stima un più 0,5%. Queste previsioni sono basate su una stima conservativa, dato che l'impatto sulla crescita di alcune misure, tra cui il piano annunciato ad aprile 2013 di ridurre significativamente i debiti arretrati della pubblica amministrazione, resta incerto. Il rapporto debito-PIL salirà al 131,5% nel 2013 e ancora al 134,2% nel 2014. La priorità è la riduzione ampia e prolungata del debito pubblico.